Buonasera, buongiorno, buonasera, 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 ciao Paola, come stai? Benissimo, solare come sempre, poi insomma anche i colori che io porto dimostrano tutta la mia solarità, il baco nero, però io amo il nero con qualche paiettina di qua e di là. Bellino però questo papillon, ma il papillon normalmente non si mette qua. Eh beh stacchiamolo e mettiamo qua, dobbiamo dire la stilista. Va beh, ti diciamo anche, scusami ma... Però dai, eh? Carino, no? Va bene, va bene, anzi guarda, sai che faccio? La settimana prossima mi metterò una gravata e io me la metto qua. Sti uomini che non comprendono l'eleganza, il fulcro dell'eleganza. Io andrei invece con un'altra new entry che è una bella produzione Novalis. L'orchestra è quella di Davide Salvi, la voce per noi di Brunella, della sua cantante, ed ha un titolo significativo, l'altra faccia della luna. Bello, pensa che una volta a Marina di Pisa c'era un locale che si chiamava proprio l'altra faccia della luna dove tra l'altro da ragazzini, proprio noi ragazzini, andavamo a fare le prove. Bello. La ascoltiamo, vai Brunella. Vai. Vorrà dire potere volare, l'infinito puoi toccare, vorrà dire puoi fantasticare, con la mente dentro al cuore. L'altra faccia della luna, ora la conosci già. Tu vuoi me o nessuna, so che questa è verità. Sciogli tutti i miei pensieri, e i nascosti desideri. Io ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, e per sempre ti vorrei. E se domani tu, tu sarai ancora qui, mi piacerà così. E se domani tu, tu sarai ancora qui, tutto tu avrai da me. Vorrà dire potere volare, l'infinito puoi toccare. Vorrà dire puoi fantasticare, con la mente dentro al cuore. E se domani tu, tu sarai ancora qui, mi piacerà così. E se domani tu, tu sarai ancora qui, mi piacerà così. E adesso dedico questa canzone a tutti gli amici di Livorno in particolare. E appunto questa canzone che ho scritto, dedicata a mio fratellone. E si chiama Tu sarai sempre qui. Particolarmente per Anna Nelli. Riposa tranquillo, non mi sento solo. Nei miei pensieri tu, tu non morirai. Io so che grazie a te ho spiccato il volo. E quante volte sono caduti a prendermi, c'eri tu. Adesso sei luce e illumini la via. Prendevi le mie mani e ci giocavi un po'. E quando te ne andavi io piangevo, ma tu mi insegnavi a vivere. Prendevo la mia strada e nella vita mia, lì dietro la mia storia c'eri sempre tu. E adesso cosa faccio senza te? Ma so che tu mi guiderai e so che sempre ci sarai. Sei con me, ogni istante con me. La tua forza non mi lascerà. Sarà come abbracciarti. Per sempre tu vivrai. Prendevo la mia strada e nella vita mia, lì dietro la mia storia c'eri sempre tu. E adesso cosa faccio senza te? Come allora tu mi guiderai e so che sempre ci sarai. Insieme come prima, io e te. Se mi guardo intorno adesso, non mi sento solo. Io ti parlo ancora come se tu fossi qui. Tu sarai sempre qui. Andiamo con la scenetta. Andiamo a sorridere un po', dai. Andiamo a sorridere un po', dai. Bando alle malinconie, andiamo a vedere cosa sta combinando Cristiano Chesi e Ci Salvatore. Ci salute, ci salute. E tutte queste ragazze che trovano in giro, ragazzi, col fatto che vanno a fare le interviste. Poi la sera vanno tutti a cena. No, però noi lamentele, reclami e non li abbiamo ancora ricevuti. Perché evidentemente si sono comportati bene, nel senso che hanno soddisfatto le esigenze di queste turiste straniere. O non hanno incontrato nessuna. Fateci ridere, ragazzi. Parti, 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 partitoi. Da domani, da domani. Luciano, ogni volta che arrivi in Sicilia, ho un casino. Una volta una mattina c'era uno in banca, continuava ad entrare e uscire ogni 15 minuti. Ogni 15 minuti entrava e uscire. Alla fine non ce l'ho fatta più. Dico, scusa monato, per farmi fatte torre. Ma come mai continuo ad entrare e uscire ogni 15 minuti? Dice, vedi, c'è un discorario puntato e dice, ogni 15 minuti, ogni 15 minuti mi tocca fare girare un disco. Oh, è condonato ad entrare e uscire ogni 15 minuti e alla fine, per lo sforzo, gli è uscita l'ernia. E lì ho capito. Ecco perché è l'ernia del disco. E poi, un'altra volta, uno aveva parcheggiato in gare che scarico, no? E continuava, aveva lasciato lì un parente che questo continuava a mettere, a togliere dal bagagliaio una cassetta di pomodori. E appena arrivato Vigile dice, no, signor Vigile, lei ha la multa, non me la può fare. Io sto scaricando e scaricando pomodori in continuazione. Fino a quando faccio carica e scarico, io rimango qua. Signor Vigile è incazzato e dice, ma come mai, scusi, ma che deve fare con tutti questi pomodori? E vedi, stasera c'è un corso di salsa. E andiamo con il Folletto del sax. Il Folletto perché lo è visivamente, fisicamente anche. È il nostro amico... È una persona molto simpatica, molto carina, molto dolce. Sì, grande sassofonista. Grande sassofonista che ci fa ascoltare... Blue Sax. E vai. Luca Canali. Grazie a tutti. 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 Intervistiamo l'artista di oggi. Parte la sigla di Intervista con l'artista. Tienilo per te, un lo dia a nessuni. Intervista con l'artista di Intervista con l'artista. Dei quali anche quando vi ho presentato e vi presento in televisione e mi sento anche un po' responsabile caro Paolo. Eh sì. Perché sono io che vi ho tenuto a battesimo in qualche modo. a battesimo. Guarda la battesimo. Guarda la battesimo. Però hai trovato un nome giusto. Un nome giusto. Cosa vorresti dire? Che hai imparato bene l'inglese da quando Luciano Nelli. Sì, perché sono andato un po' a scuola Paolo. Un po' a scuola. Poco, poco, poco. Allora, intanto li presentiamo. Intanto li presentiamo. Lui è Paolo, appunto, che è il leader di questa bella orchestra. Massimo. Massimo che... Massimo cosa suona? Tastiere e fisarmonica. Tastiere e fisarmonica. Lei, la bella del gruppo, la bella, che è Stefania. Mi piace. Buonasera. Canta. Sì, io canto. Sì, sono quella che canta. La voce femminile. Facciamo presentare anche gli altri. Enrico, chitarra, voce. Enrico, chitarra, voce. Giuseppe, batteria. Batteria. Sono un bel gruppo, hanno un genere, diciamo, che piace a tutti, perché è una musica a 360 gradi. Ma le domande, diciamo, quelle interessanti le lascio fare alla Paola. Sì, domanda interessante che vedo sta angosciando il nostro pubblico. Come mai Paolo, che comunque è il leader ormai di questa band, si chiami Johnny? Perché? Guarda, guarda nell'obiettivo. Ma lo posso dire davvero? Dillo. No, perché sì, ora alla fine l'ho scoperto, sai, veramente, eh? Cioè, ho scoperto perché mi chiamo Johnny, no? Eh, dillo. Però, allora, sta di fatto secoli fa, tanti anni fa, e niente, si tornava da suonare, ci siamo fermati in una discoteca del paese, era aperta da poco io e l'altro mio amico, e quindi siamo stati lì, siamo un po' alticci, allora il morale della favola è che lui faceva la chitarra perché era stonatissimo, io facevo l'amplificatore e di lì cominciarono a dire Johnny, guitar, ecco come è venuto così, eh? Dopo anni, non è che conosciamo Paolo, abbiamo capito questo arcano. Perché questa cosa Johnny ce l'ha raccontata tante volte, però questa qui è nuova. Per questa edizione di Ritornelli è uno scoop. E invece, la voce di Stefania, da quanto tempo Stefania sei nel gruppo? Beh, da circa tre o quattro mesi. Da quando è nata l'American Band. Sì, tre mesi, quattro mesi, ora verso maggio credo più o meno, sì. Secondo te, ecco, una caratteristica positiva dell'American Band, un pregio del gruppo nel quale sei? Eh, bella domanda, difficile da rispondere, un po' è un piacere essere qui, poi insomma, siamo abbastanza tutti amalgamati, tutti, dobbiamo ancora farci un po' di strada, però poi... Che verrà poi col tempo, insomma, ecco. Ci vuole un pochino meno di timidezza, diciamo, ecco, perlomeno da parte mia. Perché il signor Johnny mi sembra che di timidezza non ne abbia tanta, no? Ma non è vero, sai, chissà che invece sotto sotto... Devo dire una cosa riguardo... No, no, non ce l'ho, Paolo. Devo dire riguardo a Stefania una cosa, che noi l'abbiamo ascoltata un paio di volte cantare così anche al volo, senza cara di impegno, devo dire che Stefania è proprio realmente molto, ma molto brava. Grande tecnica, grande talento. Grande tecnica, grande talento, ok, ovviamente la sua straordinaria presenza... Avvenenza fisica che non guasta, vero? Anzi, sai cosa facciamo? Io partirei proprio con lei. Partirei proprio con Stefania, Lost on You. Lost on You, la accendiamo. E allora, la accendiamo, sono gli American Band per voi. Non ci sono anche la sua stessa. Il nostro corso è molto spettato, non ci sono gli American Band per voi. E allora, la accendiamo, sono gli American Band per voi. E allora, la accendiamo, non ci sono i nostri spettatori. E allora, la accendiamo, non ci sono gli American Band per voi. All I ever wanted was you Let's take a drink or have a listen, turn around Let's raise a glass or two To all the things I lost on you Tell me how I lost on you Just that you could cut me loose Oh, after everything I lost on you Is that glass on you? Oh, 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 oh Is that glass on you? Oh, 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 oh Baby, is that glass on you? Is that glass on you? Is that glass on you? Oh, 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 oh Lost on you Lost on you Oh, 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 oh Baby, is that glass on you? Oh, 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 oh Just that you could cut me loose Oh, 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 oh After everything I lost on you Is that glass on you? Is that glass on you? Jukebox dedicate Vediamo un po' come voi continuate a scriverci, scriverci, scriverci Perché quando ci riusciamo vi facciamo anche Oggi per esempio chi ci scrive? Oh, ci scrive Letizia Devo dire che però abbiamo ricevuto molte mail Sì Soprattutto da parte di ragazze che si vogliono dichiarare Ma dico, questi uomini dormono, non capiscono i messaggi subliminali che queste ragazze inviano loro Rimandiamo Cristiano Chiesi, non vi preoccupate Ce ne abbiamo in abbondanza da mandarvi, però teneteveli dopo Dicevo, Letizia, da Castiglione del Lago, in provincia di Perugia Scrive a Fernando questo messaggio d'amore Un brano scelto così, proprio ad hoc, è quello di Matteo Tarantino Perché si chiama La Porta del Cuore, che è una versione del 2015 Pensavo fosse la porta, un bacione a fine No, La Porta del Cuore, che probabilmente Letizia spera prima o poi di aprire Ma insomma, se non l'apre questa porta, Fernando è un po' decoccio, ecco direbbero Tu l'apriresti, no, La Porta del Cuore? No, ci mando Cristiano Chiesi, gliela apre subito C'hai vice, c'hai vice Dai, a parte gli scherzi, Letizia, buona fortuna per questo amore Che sicuramente andrà alla grande, a gonfiere Alla grande, allora giubbò Struca il bottone Alba splendente di luce Del mio mattino Unica meta soltanto Del mio cammino Apri la porta del tuo cuore Come fa il petalo col fiore La vera sopra il mare Che non la puoi fermare Apri la porta del tuo cuore 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 Ora per te Ora per te bussa l'amore Non chiuderla perché Io voglio solo te Non chiuderla perché Non chiuderla perché Bracobaldo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.